Noi cercheremo nel futuro di Navetec di ingegnerizzare biotecnologicamente queste nanovescicole grazie anche alle nostre expertise di biotechnology al fine di aumentare ancora di più l'efficacia di questo composto così da poter cercare di sostituire i chemioterapici ad oggi in uso con composti naturali. Già diciamo delle proprietà del limone come antitumorali si conosceva qualcosa e oggigiorno l'utilizzo del limone è un utilizzo che si fa quotidianamente ma quello che noi proponiamo è un concentrato di un particolare estratto che noi abbiamo testato in laboratorio.